Attività motorie di rieducazione in acqua sono gli obiettivi di questa innovativa disciplina e di conseguenza, grazie agli ottimi risultati conseguiti, sono anche la base del successo che sta ottenendo a Piedimonte Matese. Questo grazie ad un esperto istruttore, Francesco Vinciguerra, che vediamo all'opera in Biscina, che ha voluto portare questa tecnica rieducativa anche nell'Alto Casertano. Si tratta dunque di un'attività motoria in ambito microgravitario e consiste nello svolgere una serie di esercizi adattati specificamente ad ogni soggetto in base alle problematiche che presenta, riducendo il suo peso corporeo, sfruttando così le caratteristiche dell'ambiente acquatico, in questo caso la piscina comunale della città, per raggiungere poi il risultato sperato. Un'attività che si svolge presso la società sportiva dilettantistica Acqua, nella piscina comunale di Piedimonte Matese, la quale è munita di due diverse vasche di lavoro, con temperature diverse e con la possibilità di usufruire anche di un sollevatore manuale per facilitare l'ingresso e l'uscita dall'acqua per persone con difficoltà di diambulazione. Le sedute, che si potranno sostenere semplicemente concordando con l'istruttore, durano dei 40 ai 60 minuti per due o quattro volte a settimana, ma valutando di caso in caso le problematiche del paziente. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie. 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 Grazie.